a me mi sembra quello che mi ha riuscito a me quello lì 21 e quello che ha altri risultati c'è uno 40.000 e passa uno 36.000 e uno 36.000 e quell'altro lì 21 mi sembra quello che mi sei riuscito ma che è chiuso Sporting no forse c'ha le prime due metrine come si fa a darci uno? si lascia la macchina mi voglia si può cancellare ragazzi non mi fermo non mi fermo ma si sto sbrancato è il bellissimo primo tempo prudenza ballistica l'ha preso l'ha fatta lo scivo prudenza ballistica di limito l'ha fatta il colletto si ma hai visto il colletto ha fatto il vernis? non c'è male siamo qui al circolo volare alto ragazzi qui la situazione sta peggiorando viaggiamo a 10 centimetri da te vabbè glielo la fanta là giavante andate a studiare una fanta e una buona fa cioè io ma che oh 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 ragazzi non lo scudiamo come lavori di DJ ragazzi DJ allora dov'è? o giro a destra? oh oh a diritto dopo no tu invece ti è? no 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 oh ma via silenzio 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 no 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 si vede non ti vede no no io no 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 non io oh ah no ah 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 oh Grazie a tutti. Grazie a tutti.